Ora di Yago, venite! Come facciamo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi scogliattoli che ci volano intorno? Avete già piantato tutti i semi! Ora che la mamma è di nuovo a casa è come se il sole fosse tornato a splendere! Tu pensavi che i campioni o i geni avessero una vita facile, invece hai capito che non è così! Perché questi rospi non ci lasciano passare? Perché non ci lascia passare? Goodness! Oh, Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori ci sono? Esatto! Tre! Three!